Dopo tanta attesa, polemica e discussione, la comunità islamica di Firenze può tirare un respiro di sollievo. La moschea avrà una nuova sede, passando dall'attuale Sottosfratto in Piazza dei Cionpi, un magazzino di proprietà della Finvi di Prato, all'ex banca intesa San Paolo, pochi metri più avanti, in via Martiri del Popolo, angolo Piazza dei Cionpi. 490 metri quadri su due piani, al prezzo di 1.250.000 euro, cifra totalmente autofinanziata dalla comunità islamica. Ringraziamenti veramente, prima di tutto, alla mia comunità, devo essere sincero, che ha avuto fiducia in me perché dovevo lavorare in maniera molto riservata. I ringraziamenti vanno a tutta la città. Come ha detto il nostro sindaco, questa è la moschea di Firenze, è una questione di civiltà, della nostra realtà, e la dimostrazione era il 27 aprile, ma anche il 16 dicembre scorso, dove tutta la città di Firenze era dentro la moschea. E credetemi, anche quelli che in pubblico dicevano no alla moschea, chiamavano noi dicendo mi spiace, ma dobbiamo dire questo. Firenze è sempre stata la città del dialogo. Io penso che già la giornata di oggi questo lo possa rappresentare. Simbolicamente noi siamo in mezzo a un triangolo qui. Là c'è la sinagoga, se guardiamo dall'altra parte c'è il Duomo di Firenze, e qui nel mezzo ci sarà la sede della nuova moschea, per cui già un significato questo che io penso sia estremamente importante. Questo triangolo meraviglioso è un luogo dove si può avere la pace in nome di Dio, e non le guerre in nome di Dio. Una sede più prestigiosa e più grande di 100 metri quadri rispetto all'attuale, il cui sfratto già prorogato è previsto per l'8 giugno. Ma se la nuova sede, cosa molto probabile, non sarà pronta per il trasloco per quella data, dove pregheranno i fedeli? Lavoreremo già dal lunedì, stamattina ho parlato anche con la prefetta, per evitare lo sfratto. Questo deve essere l'obiettivo, ma francamente se già prima sembrava del tutto ingiustificato e inappropriato, figuriamoci ora. Noi siamo qui finché non troviamo alternativa.